Non spinga, ti spingo, ti spingo Ok adesso ce la fa, ce la fa E bentornati qua ragazzi in questo nuovo gameplay Come sempre prima di iniziare il gameplay ragazzi vi vado a ricordare giusto un paio di cose La prima si viva potete acquistare questo e tanti altri giochi scontati La seconda saluto come sempre tutti i nostri nuovi iscritti La terza un po' meno importante saluto anche i guys Ah quindi io sono meno importante? Esatto Me ne vado allora, arrivederci grazie Arrivederci, arrivederci Allora stia stia che ci veda da fare Buongiorno Allora signor guys C'è da fare un botto di roba C'è da fare un botto di roba Sei pronto? Ok va bene Allora come prima roba direi che ci vendiamo subito un trattore Perché abbiamo bisogno di tanti tanti satelarons Quindi ci vendiamo in una seifer gusson che abbiamo qui Quindi vendiamolo E ci compriamo un aratro Che dove sono io Boh non lo so Mi sono perso Ok Sono perso Amen Dove sei? Dove sei moreno? In farm Ok perfetto Mi sono trovato in farm Allora Esatto Compriamo un rullo C'è un rullo L'aratro Quello da 9 metri Che non l'ho messo Quindi fantastico Vabbè Arerar guys Così è bravo E poi ci compriamo Un trattore Di quelli grandi Quelli medi Dai Quelli medi Con un peso Quindi vedi Quindi vedi Ok Ok Ce l'ha qua in farm Lamborghini Vediamo anche un altro trattore Perché sinceramente Quelli che abbiamo Sì sono belli Però Insomma Sono un po' Too much Per questa serie Quindi vendiamo anche questo Ok Così ci abbiamo fatto un bel po' di soldi Lei dove sta? Prende quello? Riprende Qui Sì sì Ma ha preso l'aratro? Non c'è Mi sa che ce l'ha sul campo Sa? Ah sì? Mi sa Perché l'ultima volta Ho spawnato là Adesso vado a vedere Non lo so Perché qua non lo vedo Però se no Ce ne compriamo Un altro Mi sa che Forse è meglio Comprere un altro Perché io non lo vedo Moreno Sì infatti Mi sa chissà dove ce l'ha spawnato Quell'altro Boh Oh beh Sparito Sì Sì Comunque ho cambiato serie Ragazzi come avete visto La prima Come si chiama La prima roba Che è la prima Ah ma c'è un aratro da 9 metri Che sta di? Vabbè Quindi Compra Aratro da 9 metri Compra Ok Perfetto Adesso te lo lavi davanti Oh no Questo è più bello Di quell'altro Io che faccio Moreno? Se vuoi dare la cacciotta viva La caccia viva Così via Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Ok così almeno facciamo Più l'altro insieme Doveva essere quella parte Qui Eccola il coso Non ho portato guys Nelle miglio ragazzi Perché non c'era molto da fare Quindi far portare guys Dove non c'è niente da fare Insomma In caso più avanti No? Sì in caso sì Più avanti Comunque non spinge Si tratta d'ora Adesso spinge Dai adesso ce la fa Perché ho sbagliato parte del campo Però dai Si sta spingendo Piano piano Moreno la caccia viva Ah eccola lì Ok Sì esatto Se non c'è ovviamente la compri Così ti do i permessi Ovviamente Che ti servono? Domani Ho bisogno di una mano Perché ci sono i pallet da alzare Dove si trova lei? In Parma Vicino alla casa Ah ma c'è il muletto se vuole Però è dall'altra parte Il muletto Quindi 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 Si la compri? Si dai Compratela Compratela Ti do i permessi Aspetta Come dove sei? Qua A 20 like Vanno guys Allora Provovi direttore agricolo Sì Ok Perfetto Vai Così vediamo chi mette più like E tutte robe Quindi Spoliciate Ah anche l'episodio Io sto mangiando una caramella Scusate Perché oggi ho fatto due video Una live da due ore Quindi Insomma Però vabbè Io poi Devo raccogliere il sassi Ma mi sa che lo farò in my voice Twitch Boh Vediamo 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 Come vuole il tempo E Sperita calceviva L'ho comprata Ma non c'è Allora Vedi che c'è qualche problema In questa mappa Beh Deve la compro io Vediamo Sacche di calceviva Calceviva Allora Due Perché il negozio è contratto Ma non c'è Quindi Boh Ok Prova adesso Dov'è che l'hai messo? Boh Dov'è che spawna? Dov'è che ho spawnato l'aratro Ah Ok 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 È lì Dopo ve lo faccio vedere nei dettagli A fine video Se vediamo anche Che è più bravo A fare i fini video Perché guys Non riguarda i video Quindi va bene No? Sì che riguardo Ah ok Allora cipolla Abbiamo comprato troppo calceviva Beh va bene Male non fa Andrà bene per le prossime volte Vabbè Effettivamente è vero Però È troppa Tanto Everest Se ne abbiamo Quindi Sì Sì Certo Certo Va bene Va bene Con sta partenza di un trattore italiano Direi che sti sta sempre bene Su qualsiasi mappa italiana Ovviamente Vabbè Ma anche se fosse inglese Va benissimo Sì sì Beh ovvio Però Per tradizione Ti conviene aspettare due minuti Sai che faccio il giro Almeno un giro Vadi Vadi Perché se no poi Già Non ce la fa stollandini Vadi Vadi moreno Ti tiro su Ok Vediamo se ce la fa Non spinga Ti spingo Ti spingo Ti spingo Ok adesso ce la fa Ce la fa Ecco Se vuoi già iniziare A spruzzare tu Quel cosino Però non ce la fa davvero Stollandini Vabbè Sono fissato con il Fiat Ragazzi Ultimamente Non lo so perché Non ce la fa Nemmeno questo qua Moreno È Meglio che Compriamo un altro Acquisto Sai Sai Non ce la fa veramente Ti compro Funziona Funziona Però va Però ti compravo Il piattino È un po' la partenza È un po' la partenza Che andava molto male Eh Se no ti compravo Il piattino No 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 Basta spendere Vabbè I soldi ne abbiamo Non è problema Che pago io Quello è il problema Ah Beh giusto Pagherà il Remo Allora poi Vabbè Allora va bene E poi il Remo Non ci viene in incontro Ci dà la mancia Per l'acquisto No Eh Eh Ma effettivamente Però Moreno Sì dai te lo compro Te lo compro Il Fiat Dov'è Fiat Compra Spendi Spendi Fiat Fiat Non l'ho messo Il Fiat 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 Ah C'è C'è Fiat 35.000 euro Standard Con la zavorra Davanti Con il pepino lungo Con la cosa degli anni 90 I lampeggianti che fanno figo Fanno più FPS Allora lampeggianti Beh ovvio E aggancio frontale Direi di no Quindi compra 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 Vai Te lo ha spawnato sempre Là dove c'è Il colmo Sì Lupelette Lupelette Mi vado a cambiare Il trattore Sì perché quello lì Effettivamente Troppo Piccolo Eh sì Troppo Troppo Si sa Gli sbagli si fanno Ragazzi che non fa sbagli Nessuno Già sono landini qui Un po' Piccolo Anche questo Però effettivamente Mi sa che mi compra Un altro Coso Però direi Basta Acquisti Per oggi Per oggi basta Che bello questo Adesso C'è che si ragiona No no Il Fiat Agri Eh beh Il piccolino Anche lui però Faccio un lavoro Sì sì veramente è bello Però questo qua Il suo lavorozzo Sto andando abbastanza piano Però dai sto andando Infatti si sente che sei arrivato Quel Fiat Minchia Ti ho sentito Lontano un metro Immagino Fa un rumore Devastante Già Comunque ragazzi Non ho messo la web Perché sto registrando di sera Quasi ormai ora di cena Però Vabbè Insomma raga Direi che per oggi Lasciamo così Senza web Poi dalla settimana prossima Da quell'altra Apro la web Ovviamente Giusto un po' Per Poi vediamo se riusciamo A fare qualcosa Anche con la web Con guys Giusto per Variare Certo certo Tanto per In mente spulicciate Mi raccomando Che i pollicioni Sono importanti Perché sono importanti Per gli algoritmi E tutte ste minchiate varie Quindi mi raccomando Ugo Moreno Questo Tutto un altro mezzo Adesso che ti raggiungo In discesa va A 17 km Sto coso Sto landini Vabbè In discesa Sì Immagino In solita fa fatica Però dai Però dai Poi raccoglieremo I sassi Magari Lo farò Offline O in live Su Twitch Dove vi ricordo Che faccio le live Anche lì Quando Quando volete Passate Passare Così stiamo Anche in compagnia Ci divertiamo Perché c'è la musica Manetta Dove Sparafresciamo Cazzate Si dice Sparafresciamo Cazzate Comunque non spinge Neanche tanto In solita Neanche questo Sai In solita Fa fatica In solita In solita Fa fatica Fa fatica Però piano piano Ce la fa Tanto c'è guys Che fa cosa Non so neanche Cosa fa Però va bene Sto facendo cose Il tempo Sta super volando Via Lo sa Già Quasi Dieci minuti Finiamo Sto tempo Poi ci salutiamo Ok vai In fatto per di qua Il tempo Sta super 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 Volando via Dovente stasera Cina leggera Un bello hamburger E via Che poi tanto Leggero non è Bello Ma è leggero Insomma Amore No Penso Se ne mangiavo Tre di hamburger Vabbè Allora Si è leggero Un 4 Insomma Diventa Pesantina Vabbè E 5 5 5 Nella media Ah ok Nella media stagionale Nella media Cipulacce Eh Va bene Va bene Io quasi finito Comunque Intanto poi Se dopo ti fai trovare In farm Quando finisci tu Devi fare Giri giri Tondi Concludiamo anche Il gameplay Così vediamo se Intanto Spero che ovviamente Il gameplay sia stato Di vostro Gradimentazzo Se è così lasciato Un bel polliciazzo Un pollice a forma No Nel senso No No Non si può dire Non si può dire In rapesi Non lo so Eh Lo so ragazzi Faccio battute Veramente Shish Molto Shish Direi Intanto mi arrivano Notifiche sul gruppo Telegram Ragazzi Se ancora Non siete entrati Nei miei canali social Mi raccomando Trovate tutto In descrizione Che anche lì Parliamo di cose Vi mando Le foto nudo Insomma Entrate Sì Le foto nude Allora dopo Questo video Entra pure io No Perfetto Entri Entri Si parla di cibo Si parla di Tutto Di tutto Di tutto E poi Siete anche Aggiornati I suoi video Perché non sempre YouTube Manda E non manda Le notifiche Quindi mi raccomando Motivo in più Per passare Nel mio canale Telegram Mi raccomando Se non lo trovate In descrizione Lo trovate Nell'informazione In teoria O da qualche parte Adesso non mi ricordo Vabbè La roba simile Avete capito? Non lo è No Non con io Poi Guys Ve lo spiega Nei commenti Poi Ve lo dice E vi raccomando Passate anche Nel canale Di Guys Anche se non è importante Però Insomma Se volete Come? Non vorrei Passate pure Che comunque In settimana Poi Registriamo Anche da lui Registro anche da lui Esatto Esatto Passate anche là Se volete fare Due risatte Così Almeno siete a posto Vai Moreno Bene Allora ci troviamo In farm Poi questi pezzettini Pazienza Ok Stacca qua Come si stacca Devo prima Sollevare il cosino Va bene Venghi Venghi in farm Dottore Arrivo Arrivo Ci troviamo qua La lega di Noz Anzi Proprio al centro Della farm Così è più bella Dove ha spawnato La cacciotta Viva Di qua di fianco Ai sirius Ecco qua Che ci largo Anche per farci La mignottatura Dopo Eccomi qua Allora Per me Da me E da Guys È tutto ragazzi Se vuole salutare Guys E vi lascio ovviamente Con la solita Sigla Del Sigla E niente ragazzi Alla prossima E come sempre Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel like Ciao ragazzi